Sfuma nella finale nazionale del Gino Bozzi di Firenze il sogno dell'Arenato Curi Angolana di cucirsi sulla maglia lo scudetto della categoria Under-19 Juniors Regionali. Gli abruzzesi lottano ma si devono arrendere ai toscani dell'Allastrigiana che si impongono per 2-1 in rimonta laureandosi campioni d'Italia. Eppure la partita per l'Arenato Curi Angolana era iniziata nel migliore dei modi. Trascorrono infatti solo 5 minuti e gli abruzzesi si portano in vantaggio. Palucci approfitta di un disimpegno sbagliato da parte del portiere toscano Magnolfi e dal limite dell'area va ad insaccare con un tocco sotto di sinistro morbido e chirurgico. Alla mezz'ora però l'Allastrigiana riequilibra il parziale. Mandolini riceve palla al limite dell'area, si destregia bene in mezzo ai difensori dell'Arenato Curi Angolana e trova lo spazio per un destro secco imparabile per Cacciatore. L'Astrigiana che poi al terzo della ripresa opera il sorpasso, destro in controbalzo di Ballerini deviato da un compagno di squadra, Cacciatore Para esaltando i suoi riflessi. Ma poi nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Tomeo che fa 2-1 per i bianco-rossi toscani. Il tempo per provare a pareggiare ci sarebbe ma nel prosieguo del secondo tempo l'Arenato Curi Angolana non riesce a trovare il guizzo decisivo. E così al triplice fischio finale della partita è l'Allastrigiana che può fare festa per lo scudetto conquistato, il secondo della sua storia nella categoria Under-19 Juniors regionali dopo quello del 2017-2018. In casa Renato Curi Angolana invece rimane comunque l'orgoglio per il percorso fatto e la consapevolezza che a prescindere dalla sconfitta ci sono ottime basi sulle quali continuare a lavorare e costruire il futuro. Grazie a tutti.